musica 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 let's go bitches lega con i subs again with peter, idan e reix quindi let's go bitches andiamo ah io non prendo c andate su b si si io corro diretto proprio ragazzi un passerello madonna ma perchè lagga sempre? perchè sto caricando un video eh sono morto perchè sto caricando un video disabilitiamo la connessione ethernet ha disabilitato il pc ora ora non dovrei più laggare come un cane attenzione mi sto guardando la testa oh mio dio l'ho fatto busciamogli addosso busciamogli addosso sinistra no treni 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 raga sinistra non lo cago non lo cago palle 03 campra 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 non lo cago si controlla controlla no raga sei morto abbiamo perso c non fa niente non fa niente rimani in c e guarda di la sinistra il lato tuo sinistro raga alfa 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 arriva dal binari mazzalo ammazzalo te però shot è una bestia questi un colpo mi ha tirato raga sulla destra ci passano da destra non siamo tutti qua sinistro no c'ho più colpi no attenzione raga attenzione 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 sono bloccato qua eh vabbè ho scavalcato a bu oh mio dio che gli ho fatto vabbè no raga dentro dentro occhio la casetta al centro grazie mi ha salvato figurati sotto birra vai 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 raga continuiamo così ora rispondono male vai 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 quando succede non c'è nessuno quanto si sa dove rinascono un altro un altro da destra è passato raga alfa 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 tranquillo tranquillo ce l'abbiamo noi lasciategliela lasciategliela se si almeno gestiamo un po' con gli spawn ok non lo vedo non lo vedo difendo io via raga bravo 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 ci ha fatto collateral ci ha fatto collateral mazzo si raga ma ti ha messo la cecchina a porta per aver fatto il cazzo al video vabbè si cavolo l'ho visto l'ho visto c'è power che è a 16 ah mannaggia mi hanno preso dopo una cifra attento viene in bianco eh spostatevi sulla sinistra io vado in c provate a prendergli a provate a prendergli a me ne vado in c io provo a prendergli a raga eh vai rickson prima prendergli a no no occhio occhio da container tranquilli raga con calma li stiamo praticamente arando ah ma li stiamo praticamente arando boys li stiamo arando e io sono praticamente in negativo io sono fermo qua che blocco lo spawn no no non ho visto fighe fail vabbè non fa niente dall'altra parte eccolo la vabbè tranquillo non fa niente non fa niente raga abbiamo vinto noi ugualmente bitches io c'ho mio fratello io c'ho mio fratello collegato al wifi mi sta laggando come la madonna mannaggia no non è morto unbelievable quindi ragazzi scusatevi aiuto quanto posso tranquillo io prendo bravo adesso è finita un altro bianco raga rido ce l'è destra è quasi meglio a vector se non fosse per la precisione tutti in rosso eh un altro morto eccolo la preso ora rinascono lì dovrebbero no dai mi è saltato nel mirino mentre miravo vaffanculo anyway let's go bitches abbiamo vinto let's go bella bella